3, 2, 1... E io dovrei giocare con una persona del genere! Cari amici di Peppelote, questa nuova puntata di Minecraft! Ed eccoci pronti per affrontare una nuova grandiosa Lucky Block Challenge che è anche una fan-made creata da Ivelta Lix! Grazie! Grazie infinite per averci creato questa leggendaria Eterna Lucky! Ovvero una mappa lunghissima, piena zeppa di Lucky Block! Diamo subito un'occhiata a che cosa c'è scritto! Cariii! E io sono lei! Che hai fatto? Non dà qua! Allora prima provando cosa c'è! Aprimi attimo il mio per favore! E' bello il titolo! Puzzachilope! Puzzachilope! Su tu che c'è scritto? Salve signora testifiche! Forse ci vuole... Addio! Signora testifiche! Ma io non sono una signora! Dove hai fatto il mio arco? C'è il mio arco! Me l'hai buttato via! Ma sicuramente! Me l'hai fregato! Non è vero! Lo stavo tirando fuori e poi mi hai buttato giù e quindi deve essere caduto! Nooo! Evviva! Nooo! Nooo! Ma chi viva senza arco? Ma c'hai la freccia no? Vabbè! Se la tinge di verde diventa un supereroe! Carissimi Eternal Love! Sono lieto che stiate giocando la mia mappa! Ma questa non è una lucky block qualsiasi! E' il centro psichiatrico Eternal Love! Guarda che simmetria! La simmetria è sempre fondamentale! Unita anche a patate e carta igienica! Quando si parla di patate al cartoccio si intende quella carta igienica! Perché almeno è anche disinfettante e fa bene allo stomaco! Carissimi Eternal Love! Come già menzionato prima sono lieto che stiate per provare la mia prima lucky block challenge! Ma credo che ora vogliate sapere perché questa lucky block dovrebbe essere diversa! Ebbene! Ora vi spiegherò tutto! Uno! Questa lucky block non contiene uno, non contiene due, non tre, non quattro, non cinque, non sei! Ma ben sette tipi di blocchi più un altro che potete trovare in situazioni particolari! Una specie di all lucky block challenge fan made! Se vi siete persi la nostra serie che abbiamo appena concluso della all lucky block challenge Vi lasciamo il link in descrizione insieme anche a G2A perché ci sono le offerte d'estate e non le potete perdere! Due! Le strade non sono uguali alle altre! Infatti ho deciso di aggiungerne due tipi! Volete sapere cosa cambia da un percorso all'altro? Primo tipo ossidiana! Su questo particolare percorso troverete solo unicamente degli unlucky block! Nooo! Secondo tipo oro! Qui potrete decidere se percorrerlo o meno! Ma come? Ci saranno delle mini sfide! Queste sia affrontate e completate vi daranno accesso a un pass che vi darà diritto a saltare un certo numero di lucky block! Il loro numero è determinato dalla difficoltà di queste mini sfide! Tieni conto che possono essere sia vantaggiose sia svantaggiose perché nel tempo che userai per completarle l'avversario potrebbe raggiungerti o persino superarti! Teni a mente che però se la sfida è difficile il numero di lucky block da poter evitare sarà maggiore! Molto interessante! Uno potrebbe riuscire a evitare magari delle esplosioni megagalattiche semplicemente facendo una mini sfida oppure in realtà trovava solo roba bella e quindi la sfida gli fa solamente perdere tempo! Comunque le voglio provare perché è comunque un'aggiunta al tipico schema delle lucky block challenge! Quindi complimenti per l'idea e grazie mille! Un'ultima cosa su queste sfide! Se sbaglierete avrete anche delle piccole pendenze! Nooo! Ovvero potreste trovare altri lucky block che dovrete aprire alla fine di queste! Vince chi ha proprio primo tutti i lucky block! Per rendere le cose più interessanti vi potrete anche dare fastidio! Kiria dimmi la verità! Sei felice ora che puoi tormentare Ello senza che dica qualcosa contro? Eh tanto mi diranno conto nei commenti come sempre! Come? Ti sembra strano che non ci siano le 50 pagine con alla fine scritto che sei una birce! Effettivamente! E beh ho pensato che già durante il percorso mi manderete gli accidenti! Quindi non mi sembrava il caso! Però se proprio ci tieni... Se proprio ci tieni? Nooo! Siiii è una birce! Ma ci sono altre... E tu sei contestifiche! Crepa! Crepa per tutti! Buona fortuna! E ne avremmo bisogno però! Eh mi sa, mi sa! Allora! Io... Aspetta! C'ho anche la pala! Vediamo se funziona bene! Ti odio! Credo che siano un pochino troppo potenti! Le lasciamo a casa infatti! Quindi le lasceremo qua! Mamma mia! Sette! 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 E' fortissima! Lasciamo tutto qua! Prendiamo giusto un pochino di blocchi che non si sa mai! E... Ora siamo pronti per partire! Mettiamoci qui! Esatto! E al mio via saltiamo! Tre! Saltiamo e iniziamo la sfida! Tre! Due! Uno! E io dovrei giocare con una persona del genere! Eh ma non sono me che ho partito! Dai! C'ho le barriere per fortuna! Ah! 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 Come non c'erano le barriere? Ah! Nel mio lato si! Ah! Dai! Dai! Io ti ho buttato giù c'è già subito la crollata! È vero! È vero! E non è giusto! Sapeva che ti avrei buttato di sotto! E ha permesso subito che tu ti potessi vendicare! Vai! Appicciacati bene a questo coso e andiamo! Tre! Due! Uno! Beat! Mamma che schifo giù subito! Ma no! Ma no! Ma no! Aspetta via! Brutti schifosi! Fammi trovare qualcosa di meglio! Qualcosa di meglio! Ma lordi! Eh! La morte ho trovato! Anche la TNT non era male però eh! C'è ancora qualche piccolo ragno che ti vuole salutare! Grazie! Grazie! Sempre felice di vedere i ragni eh! Ora che sono morti troppi! Mi metto giorno! Ah! Ahia! Maledizione! Sono proprio morti tutti veramente eh! Ok! Vabbè pazienza! Dai! Li lascio a te! Un pozzo subito! Vi prego! Vi prego! Il pozzo subito! No! E mi sono ammazzato da solo! Anche Cenerentola faceva così! Si ammazzava da sola! No! Faceva i sogni di morte! No! Ancora! Due figli mi è capitati! Di che? Di le gabbie! E ce l'hai fatta! A fuggire da entrambe! Sei terribile! Che donna che sono diventata eh! Sì veramente! Ogni giorno peggio del giorno precedente! Aaaaah! Aaaaah! Bob senti prima! Non mi hai attacchiato! Quello di che sei buono! Aiii! Io penso che tu sei diventato buono! Bob è buono! Abbiamo sempre trattato male in realtà! Ha un cuore da tenerone! Ma figurati! Che carino che sei! Lo sai? Ti ricordi quell'altra mappa in cui dovevamo raccogliere diamanti e smeraldi per poter sopravvivere? Sì! E li trovo adesso che non servono più! Viva! Che bello! Ma 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 ma! Lucky potion! Tipo centomila! Ah! Punto esperienza! Ah! Sto morendo nella lava! Cuniglietti! Robbe! Strength! Jump boost! Robba buona! E ho reso tutto invisibile ho paura! Sì! Ho reso tutto invisibile! Aaaaah! Robba brutta! Robba brutta! Robba... Robba fumosamente brutta! Tanto brutta! Robba... Appiccicosamente brutta! Tutto brutto diventato! E basta! E basta! Cos'è? Ma è che carina! Minigioco! DJ minigioco! Sì! Io sono indietroissimo! No! Di nuovo! No! Ma da chi vanno? Ah! Dai testificate! Ah! I testificate mi stanno salvando la vita! È infatti l'unico zombie testifico che ci è vendicato subito! Bob! Basta nominare Bob e muoiono gli altri zombie! Bello! Non ho paura! Perché ci sono dei creeper sulla mia strada? Si può sapere? Eh! Perché devono attraversare! Perché un creeper attraversa la strada? Via! Via tu! Via tu! È andato via! È andato via proprio proprio via! Oh no! Ho trovato un lucky block e devo aprirlo! Eh! Sì! Dopo che l'hai finita sì! Accidenti! Dai che ti recupero prima! Boh! Perché le otte sempre? Ma no! Stai via! Agna! Sono arrivato anch'io finalmente al minigame! Potrei saltare tutti questi 15 lucky block ma lo voglio fare! Attenzione ai spiral! Guardate quanti ci sono! Eh! Infatti ho salendo qualche disco! Dove ho trovato uno spiral? Me ne avevo spoilerati guardando un attimo nello schermo di Kyria! Ma vederli dal vivo è ancora peggio! Si è inquietante tutto questo! Dove dia me l'avete messi? Ma che cosa sto cercando poi? Oh no! L'ho trovato uno cattivo! Ho trovato un pass! Hai trovato? No! Due bloccacci cattivi! Appena l'hai detto l'ho trovato anch'io! Devo andare avanti allora! Nello stesso istante! No 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 no! Ok! Quindi questi quelli posso saltare? Eh no ma l'hai messo il tuo spiral o qualunque cosa hai fatto? Ah dove devo mettere? Eh dove vuoi! No aspetta dove vuoi! Mettelo dove vuoi! Basta che lo metti! Così almeno... No 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 no! Stiamo vendendo l'armato di diamante! Mi ha doppato una full armor! E che è successo? Che me l'ha fatto esplodere il creep e il maledetto! Ma non mi disse male! Mi dispiace! Io non ho trovato niente! Ma se posso sellarmi! Hai visto che siamo arrivati all'Ossidiana? Sì! Tutti all'Aki! Sì! Però vedo la fine! Vedo la fine già qualcosa! Presto! Uh! No 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 no! Non scappa scappa! Così ce la faccio? Non ce l'hai fatta! Invece sì! Maledizio! Ce la posso ancora fare! Bob! Poverino è morto! Così! Mi sento un po' Bob adesso! Però i diamanti li prendo perché sono figli eh! No 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 no! Addio amore! Crepa! Crepa! Sono viva! Sono viva! Con un cuore! Come hai fatto! Perché sono attrezzata bene oggi! Ah! Non è giusto! Mi sto temprando grazie alla mia serie sull'Eternal Adventure Pack! Mi stavano temprando! Anche te! Eh sì! Direttamente! Ti hanno temprato bene? Eh! Sicuramente meglio che a quella villager! Mamma mia! Qui ci sono dei buchi sotto! Ah! Un amico in più! Hai visto? Ah! Sì! L'ho visto! Bello vero? Eh! Ti butto! Oh no 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 no! Roba buona vero? Nooo! Buona paghetta! Buona paghetta! Niente! Niente! Ahia! L'ho presa una anch'io adesso! Ma hai detto! Senti! Quindi ti ho ucciso io? Ah! Eh! È vero! Ci si può dare fastidio! Certo che sei morta anche tu! È stata veramente una mossa stupidista! Com'è che me l'hai fatto? Perché ho perso l'equilibrio! Mi hai ammazzato e potevi farlo! Perché effettivamente c'è scritto che si può! E poi alla fine sei morta allo stesso! Eeeh! Sprecando interamente il tuo bonus! E vabbè! Ogni tanto sono sempre Kiria no? Eh lo so! Ma purtroppo sì! Cosa vuol dire purtroppo sì? Datemi una mela! Oh! Anche questa è buona! Punk in pie! Punk in pie! I due testivi che si guardano! Si osservano! Si vogliono bene! Io li odio! Guardano quanto portano di piedi! Aaaah! I miti! Aaaah! È caduta? Si! Funtali i marini! Eh io ne lavava invece! L'ultimo sul! Ma che! Sì! Diana! Dimmi che era buona! Ma era unlucky! Eh lo sapevo! Lo sai che avevo sprecato un ender pirla per venire più vicino e mi sono esplosa appena sono arrivata! Come si è esplosa? Non hai sentito il boom di due secondi fa? Si ma che ti è successo? Niente! Non lo so cosa è successo! Si è sufficientemente solo esplosa! Ah! Sono cose che capitano! Eh beh! A me è sicuro! Vi ho solo uno! Se! 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 Vince! Incredibile! 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 Pazzesco! Eh! Arriva! Per primo! La prima parte di questa sfida è mia! Stavolta aiutateci a tenere il conto nei commenti che noi ce ne dimenticheremo subito! Ma porca miseria! Uno a zero! Per me è anche uno per il Creeper o meno uno per chi va direttamente! Ma per cosa meno uno? Te l'hai da zero se sono meno uno! No no perché il Creeper conta per me! In base alla decorazione della galleria riuscite a capire di che tipo saranno i prossimi Lucky Block! Bellissimo! C'è anche una sorta di indovinello! Wow! Non vedo l'ora! Potrebbe essere bello interagire con tutti voi quindi adesso voi guardate attentamente quali potrebbero essere i prossimi Lucky Block! Vediamo se c'è qualche tipo di spoiler! Io sono ancora qui dispersa! A te non te ne puoi affegare! Niente! Potrebbero essere Diamond, Astral oppure Blue! Diteci voi secondo la decorazione che vedete se dovrebbero essere Astral, Blue oppure Diamond! Devi prendere tutte? No 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 no! Tutte tutte tutte! E proprio tutte! Ce l'hai che calcolare dietro! Fingiali! Fingiali! Ecco fatto! Devo proprio! Certo! Chi non riesce proprio ad arrivare alla fine! No veramente! Vieni visto che ti voglio tanto Mau! Vieni un po' più vicino! No perché... Ti consiglio di prendere lo spawn point ormai è finito! Eh sì! Magari sia! Dai tiriamoci addosso tutte queste schivezze! Lancia! Un attimo che se no mi diverto neanche che c'ho sempre lo schifo nell'inventario! Brava brava! Ti odio! Ti odio tantissimo! Proprio tanto tanto tanto! Senti bisogna buttare gli scarti! Ti stavo dando una mano! Grazie amore! Grazie eh! Non te l'ha preso lo spawn point! Ma col pipì! E vieni ma salte diamo tutti felici! La 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 la! Poi butto quelle fortunate eh! Ma con tutte quelle fortunate è mio comunque! No no! Anche mio! No! Sono miei! E in un modo o nell'altro abbiamo concluso la prima parte di questa eterna lucky block challenge di Veltalix! Grazie! Grazie mille per averla creata! Non vediamo l'ora di continuarla scoprendo che cosa ci sarà al di là di questo muro d'ossidiana Diamond? Astral? Oppure blu? Votate nei commenti basandovi apparentemente su come è decorata questa zona e scopriremo la volta prossima chi avrà avuto ragione! Grazie a tutti per aver sottostrati canali! Na la 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 la!! Ehee alla prossima coooooongli EternoLove! Ciao! Ciao!